Ma questa gara mi ha fatto capire che quest'anno vinceremo lo Scudetto. Negli ultimi quattro anni, che sono la squadra più forte, è vero che loro gli servono un punto per vincere Scudetto, tra l'altro meritatissimo, ma noi purtroppo ci servono tre, perciò dobbiamo essere bravi a fargli festeggiare il loro Scudetto a casa loro, non a casa nostra.